E' di camera! E' un po' molto veloci, si usa tanto la testa marcia. Ti ho beccato, ma magari stai saltando, lo sapevo io. Si, alle curve veloci. Grande Ilo a Pecolaro, cosa dici? Tutto bene qui? Eh vabbè dai, ah non si può avere in servizio. E' lui, è lui? Chi è? E' lui quello della Bibbia? Rally Race! Rally Race, eh, anche lui, ecco. Sai che c'è lì, no? C'è le fiorpa. Te l'avevo detto che venivo. Tutto bene? Si, si, tutto bene. No, no, io sono single per mia scelta, anche quella degli altri. Non è nasconociuta, sento messa, sento messa nello terra. Ma ti scusi, ma se le date gambe, come ho preso? Tante della Bibbia, chi è? Eh si, eh, non c'è più. Ma li portiamo a capirlo. Ha, 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 ha. Escapato, gi' già tutto l'alto. Benissimo! Grazie per la visione!